Fabio Prosperi è il nuovo allenatore del Campobasso. La notizia, nell'area già da diverso tempo, è stata ufficializzata dal club Rossoblu in mattinata, con un comunicato sul proprio sito internet. Città di Campobasso, si legge, comunica che Fabio Prosperi è il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione di Lega Pro 2022-2023. In queste ore, nella sede del club, il tecnico pescaresa ha sottoscritto il preliminare di contratto. L'incarico sarà intrapreso a partire dal 1 luglio 2022. A Mr. Prosperi un caloroso benvenuto nella grande famiglia Rossoblu, reduce da un biegno di assoluto spessore con il vasto Girardi, con cui ha ottenuto in entrambi i casi la salvezza. In largo anticipo la scorsa stagione, passando per la porta dei servizi dei play-out contro il Castelnuovo Volmano nell'ultimo torneo, il nuovo trainer Rossoblu ha saputo mettere in vista i propri elementi di punta, tramite la propria azione. Nello scorso torneo fu il bomber albanese Merkai, per molti in procinto anche di passare al lupo in corso d'opera. In questo i vari guida Salatino, Alagia e Guadalupi, che stando ai rumors di mercato, potrebbero andare a completare l'organico Rossoblu.